Pace, 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 pace. Dove non c'è giustizia non c'è pace. È questo l'evento promosso dalla Fondazione Fabbrica della Pace per celebrare la giornata internazionale della giustizia sociale indetta dall'ONU e in programma domani. I bambini sono veramente i nuovi cittadini e loro, e se avete notato, prendevano persino appunti, sono quelli che daranno l'energia a questo mondo e noi lavoriamo per loro in primis e per le loro famiglie e contiamo molto sulla scuola. Oggi costruire una giustizia sociale è difficile, ma ci dobbiamo provare, lo dobbiamo fare partendo dalla tutela dei diritti dei fanciulli, aiutando i nostri ragazzi a conoscere le potenzialità che dà la vita, l'amore per la vita e quanto sia bello però aiutare gli altri. Per quasi tre ore i ragazzi della casa famiglia di Borgo Amigò e gli studenti che hanno partecipato al progetto Viva le scuole animate hanno interrogato magistrati, politici, artisti ed esperti di infanzia sul rapporto che deve intercorrere tra grandi e piccoli affinché l'uguaglianza sostanziale proclamata dalla Costituzione italiana e la Convenzione dell'ONU per i diritti dei fanciulli possano trovare piena applicazione nella vita di tutti i giorni. Dall'inclusione dei bambini diversamente abili al rapporto quotidiano con i genitori, passando per la lotta alla povertà, quello andato in scena è stato un dialogo franco e schietto moderato da Pippo Baudo, uno degli operai della Fabbrica della Pace più impegnati. I bambini sono ancora ingenui però hanno delle domande che ti impressionano, dei sentimenti fortissimi. Bisogna essere ottimisti, guardando questi ragazzi alla fine torni a casa e sei più felice. I bambini saranno gli adulti di domani, sono i cittadini di domani. Sta a noi cercare di, più che di inculcare, direi di farli riflettere anche sulla stessa convenienza al rispetto della legalità che poi significa sostanzialmente rispetto dell'altro essere umano. Abbiamo sentito oggi parlare molto anche di diversità, ma di diversità anche come ricchezza, come ricchezza e non come problema rispetto al quale alzare barriere o alzare muri. Rispettando i bambini, rispettando le famiglie, il loro bisogno di sanità, di giustizia, il rispetto dei loro giochi, della loro cultura, della possibilità di esprimersi. Noi facciamo opera di prevenzione, mettiamo la società in condizione di essere nel futuro una società dove si rispettano i diritti e i doveri. E quindi oggi noi abbiamo voluto dire questo ai bambini. Le bambini hanno capito benissimo. L'ultima bambina che è intervenuta, Noemi, mi ha detto a me piace questo progetto, progetto detto con parole anche dei grandi, io voglio fare qualcosa per voi, mi ha detto. Non fate qualcosa per noi, ma voglio fare io qualcosa per voi. Cioè i bambini, se ascoltati, possono fare qualcosa per noi, non solo noi per loro, ma loro per noi.